Quello che sto facendo non è mandare un sms ma digitare su una tastiera un testo da proiettare con un laser. In questo brevissimo video vorrei mostrare quello che può fare Galactic TXT. Si tratta infatti di un laser in grado di produrre oltre a bellissime coreografie in sette colori anche appunto testi e messaggi. Nel software di Galactic TXT sono già inclusi una serie di set di testi di immagini relativi alle ricorrenze più famose come Natale, Capodanno, San Valentino eccetera. Ma la cosa più importante è però la possibilità di collegare la tastiera in dotazione e di digitare i propri testi. Attenzione, costa meno di 300 euro, non è un laser che può lavorare a d'oro con il quale proiettare tutta la Divina Commedia. Leggendo attentamente però il manuale, sfruttandone appieno le possibilità offerte, permette però di proiettare anche a grandi distanze semplici inviti, auguri, pubblicità o disegni. In una sola macchina quindi un bellissimo laser tradizionale ed un praticissimo proiettore di messaggi per i tuoi clienti, amici o anche i passanti. Su audio-luci-store.it A presto.it Grazie a tutti.